Tanto, sbagliato, no, ya, in missione, contro il nemico, non ci facciamo vedere, siamo delle famiglie, guardate, chiudete il bambino, guardate, 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 io mi sono uscito, è entrato boldo, e sta salendo, ecco il nemico, è arrivato il nemico, chiedermi che c'è lo stesso, però è un intestino, è arrivato tutto, con lo champagne, andiamo, nemico, pure tu hai dato un nemico, la mia mamma, non c'è un nemico, 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 non c'è un cazzo, no, amiche, porres, porres, al muro e ruolo, cazzo, 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 Oddio, 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 forza, posizioni, aspetta, non si vede, ma vieni, posizioni, gambero, forza, posizioni, regolamento! Eh william, miro, miro, miro! Soldato, poi c'è comprovato con danti lo data del futuro filosofia e veras la dinamica, de la balequina, soldato miro a nini, soldato miro a nini, soldato miro a nini, sono un ruolo, è un sattocchio, un amico, 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 no, sono un amico, no, saloppa, vieni qua, amico, 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 am Il merito è il passito! 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 Oh, il rischio è il passito! Come a parlare, la prima cosa è il passito! Carte! Soltando! Wisman!